Buon pomeriggio, buon pomeriggio di nuovo dallo stadio Mancini di Fano e quasi tutto pronto per l'inizio Alma Juventus Fano che dovrebbe giocare in maglia granata, le squadre fanno il loro ingasso in campo in questo momento Fermana in maglia gialla con calzoncini e azzurri Parte Davide Borrelli al fisco dell'arbitro, la palla è lì, c'è il gol! E c'è il gol! Goal! Nicolo! Gucci! Intanto c'è Sivilla, 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 limite Sivilla, Sivilla il tiro, Sivilla! Andrea! Sivilla! Ma che gol! Ma cosa ha fatto Sivilla? E' Clemente che allontana il pallone, c'è Sivilla, Sivilla solo, Sivilla, 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 Sivilla il tiro E' ancora lui! Andrea! Sivilla! Palla sul sinistro, quindi Agostinelli che tenta la conclusione, il tiro Ginestra, grande intervento, proprio all'ultimo secondo Sul tiro di Agostinelli, finisce qui la partita Finisce qui con il miracolo di Ginestra che blinda il risultato su Agostinelli Doveva finire davvero così con il 3 a 0